Il Laboratorio dell'Italian Barista Lab nasce dalla volontà di Coriziana Caffè di creare un punto di riferimento territoriale per la figura professionale del barista. Sono attivi cinque corsi mensili con due trainer a disposizione dei partecipanti e la possibilità gratuita di esercitarsi nella nostra sede. I corsi che offriamo spaziano da diversi sistemi di estrazione del caffè alla latte aria, dal bartending alla miscelazione avanzata. L'Italian Barista Lab è uno spazio di condivisione e di studio veramente aperto a tutti. Il Laboratorio dell'Italian Barista Lab